storica. Willy e Don Roberto, poco fa il Presidente della Repubblica, ha conferito la medaglia d'oro al valore civile al ragazzo ucciso dal branco e al sacerdote accoltellato a Como da uno dei bisognosi a cui prestava aiuto. Giacinto Pinto. Aveva 21 anni Willy Monteiro Duarte, fisico esile e temperamento mite, la passione per il calcio e la cucina, voleva diventare cuoco. È morto il 6 settembre scorso a Colleferro, ucciso a calci e pugni dal branco mentre cercava di sedare una rissa. Quattro giovani come lui adesso sono in carcere. Willy, luminoso esempio anche per le giovani generazioni di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all'estremo sacrificio. Queste le motivazioni della medaglia d'oro al valore civile, alla sua memoria che il Presidente della Repubblica Mattarella gli ha conferito su proposta del Ministro dell'Interno Lamorgese. Parole che ritornano anche nel decreto del Quirinale per Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, accoltellato a Como poco meno di un mese fa. Stava servendo come tutti i giorni le colazioni a senza tetto e bisognosi. È stato accoltellato proprio da un clochard che aveva più volte aiutato. Un uomo schivo, riservato. Come il giovane Willy, Don Roberto si è spinto fino all'estremo sacrificio per aiutare gli altri. Per lui è al merito civile la medaglia d'oro alla memoria conferita dal Capo dello Stato.